Dove sono i festeggiati? Tutti? No, mancano! Anna Maria! Dov'è Anna Maria? Antonio? Allora! Qui dietro la torta, forza! Anna Maria! Su le mani! Questo programma è offerto da! Anna Maria! Qui dietro la torta, forza! 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 Questo programma è aperto da anni. Forza! Graziano, vai! Forza tutti qua, vai cerco! La torta è per tutti! Non è solo per i festeggiati, è per tutti la torta! Facciamogli tanti auguri! Questo programma è aperto da anni. Ma la torta è per tutti! La torta è per tutti! La torta è per tutti! Ma la torta è per tutti! Forza tutti qua, forza! Graziano, vai! Forza tutti qua! La torta è per tutti! La torta è per tutti! Non è solo per i festeggiati, è per tutti la torta! Aprite, aprite! Facciamogli spazio per i festeggiati! Dentro, dentro i festeggiati in pista, Renata! Facciamogli spazio per i festeggiati! La torta è per la torta! Facciamogli spazio per i festeggiati! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.